salve a tutti sono alex il biondo benvenuti in un nuovo video oggi è stata veramente una giornata bellissima poi vedrete il perché e prima di iniziare questo video che sono le 22 e 41 e voglio andare a dormire però io voglio fare questo video perché è un video bellissimo allora prima di iniziare voglio salutare a due ragazzi che mi hanno incontrato sulla pista di pattinaggio in mezzo al corso e si sono fatti una foto e niente abbiamo fatti i giri su questa pista che praticamente è rotonda e fa i giri con i pattini sul ghiaccio ovviamente e niente oggi è stata una bellissima giornata ora vedete perché perché grazie a questo video lui c'è dei bambini oggi vado oggi mangiamo l'acqua vuoi che vedete noi un caffè macchiato a me caffè normale si che giochi da tassino ok ragazzi è piaciuto il video allora come avete visto oggi alle cinque ho fatto un incontro con Lopez il giocatore che se vi ricordate ho fatto il video se mi poteva venire a salutare sotto la curva e magari qualche giorno a farci un incontro e ragazzi non so come vi dirtelo mi ha regalato la maglietta che credo che in estate fa allenamento guardate con per il mio amico alex e il biondo che lei non è italiana lui non è italiano poi si è scritto con stima Lopez il numero 6 ragazzi sono veramente contento i miei genitori mi hanno fatto questa sorpresa ma grazie a sonia che è una giornalista sono amici con i miei genitori è una giornalista del benevento che sta mi sembra a bordo campo e niente è una giornalista e grazie a lei Lopez mi è venuta a salutare quindi la ringrazio mi ha detto Lopez che mi darà forse anche la maglia diciamo del benevento quella la maglia la maglia che gioca il benevento e niente la ringrazio a Sonia grazie mille anche a Lopez ma anche a voi perché avete veramente condiviso lasciato un like su facebook e su youtube quindi grazie anche a voi e mi ha detto che anche contro l'ascoli che ora sarà la ora sabato ci sarà la partita avellino benevento che purtroppo non posso andare a vedere ma poi parleremo faccio un video a parte e poi ci sarà la partita benevento Ascoli che mi ha detto che se può mi viene a salutare in curva però devo andare allo stadio alle due va bene non fa niente e niente grazie Lopez per questa maglia con lo scudetto di benevento speriamo speriamo che a Davendino vinciamo e anche a Scolini speriamo che passiamo un bellissima stagione ok per questo video può finire qua è stato un video corto perché volevo dire questo e ok devo andare alla prossima volta con Alex il biondo ciao ciao